Annabeth. Annabeth decise che i mostri non l'avrebbero uccisa. E nemmeno l'aria avvelenata, o il territorio insidioso con le sue fosse, le scogliere e gli strapiombi. No, signore! Molto più probabilmente sarebbe morta per overdose di assurdità. Le sarebbe scoppiato il cervello. Avevano dovuto bere il fuoco per sopravvivere. Avevano subito l'attacco di una banda di vampire, capitanata da una cheerleader che lei stessa aveva ucciso anni prima. E per finire, erano stati salvati da un titano che faceva l'inserviente, si chiamava Bob, e aveva i capelli da Einstein, gli occhi d'argento e una scopa micidiale come arma. Certo! Perché no? Percy e Annabeth seguirono Bob in quel territorio desolato, lungo il corso del flegetonte, avvicinandosi sempre di più al fronte temporalesco delle tenebre. Qua e là si fermavano a bere l'acqua del fuoco, che li teneva in vita, ma che Annabeth non assumeva certo con piacere. Era come fare i gargarismi con l'acido per batteria. Percy era la sua unica consolazione. Ogni tanto si voltava e le sorrideva, o le stringeva forte la mano. Sicuramente era spaventato e distrutto quanto lei, ma cercava di tirarla su, e lei lo amava per questo. Bob sa il fatto suo, le assicurò il figlio di Poseidone. Hai degli amici interessanti, mormorò Annabeth. Bob è interessante! Il titano si voltò e sorrise. Sì, grazie! Quel ragazzone aveva un ottimo udito. Meglio ricordarselo. Allora, Bob... Annabeth cercò di parlare con un tono tranquillo e amichevole, pur non essendo facile con la gola scorticata dal fuoco. Come sei arrivato nel tartaro? Con un salto, rispose lui, come se fosse ovvio. Sei saltato nel tartaro, ripete Annabeth. E questo solo perché Percy ha pronunciato il tuo nome? Aveva bisogno di me. Gli occhi d'argento di Bob scintillarono nell'oscurità. Sono contento. Ero stanco di spazzare il palazzo. Venite! Siamo quasi arrivati a un'area di servizio. Un'area di servizio? Annabeth non riusciva a immaginare cosa significassero quelle parole nel tartaro. Ripensò a tutte le volte che, insieme a Luke e Talia, si erano sistemati nelle aree di servizio delle autostrade, quando erano semi dei vagabondi che lottavano tutti i giorni per sopravvivere. Ovunque Bob li stesse portando, Annabeth si augurò che ci fossero dei bagni puliti e un distributore di merendine. Soffocò una risata. Eh sì, stava decisamente andando fuori di testa. Continuò a camminare, soppicando un poco e cercando di ignorare i brontolì dello stomaco. Tenne lo sguardo fisso sulla schiena del titano che li stava guidando verso la parete di tenebre, ora a poche centinaia di metri di distanza. La tuta blu di Bob era strappata fra le scapole, come se qualcuno avesse cercato di pugnalarlo. Dalle tasche spuntavano stracci da spolvero e aveva uno spruzzatore appeso alla cintura, pieno di un liquido azzurro che sguazzava a un ritmo ipnotico. Annabeth ripensò alla storia dell'incontro di Percy con il titano. Talia, Nico e Percy avevano sconfitto Bob sulle rive dell'Ete. Dopo avergli cancellato la memoria, però, non avevano avuto il coraggio di ucciderlo. Il titano era diventato così gentile, dolce e servizievole, che lo avevano lasciato nel palazzo di Ade. Persephone aveva promesso di prendersi cura di lui. A quanto pareva, il re e la regina degli inferi pensavano che prendersi cura di qualcuno significasse consegnargli una scopa e fargli spazzare via i loro guai. Perfino per Ade era un gesto troppo crudele. Annabeth non aveva mai provato compassione per un titano prima di allora, ma non le sembrava giusto prendere un immortale smemorato e trasformarlo in un inserviente senza stipendio. «Non è un amico», rammentò a se stessa. Aveva il terrore che Bob recuperasse all'improvviso la memoria. Dopotutto il tartaro era il luogo in cui i mostri si rigeneravano. E se stare lì lo avesse aiutato a ricordarsi chi era? Se fosse tornato già a Peto? Beh, avevano visto come si era sbarazzato di quelle impuse. E Annabeth era disarmata. Ne lei ne persi, erano nelle condizioni di battersi contro un titano. La figlia di Atena lanciò un'occhiata nervosa alla scopa di Bob, chiedendosi quanto ci sarebbe voluto perché la lancia che nascondeva le venisse puntata contro. Seguire Bob nel tartaro era un rischio folle, ma purtroppo non avevano un piano migliore. Continuarono ad avanzare cauti nel territorio brullo, mentre i lampi sanguigni si accendevano fra le nuvole abbelenate. Un altro meraviglioso giorno nelle prigioni sotterranee del creato? Annabeth non riusciva a spingere lo sguardo molto lontano nella foschia, ma più camminavano, più si convinceva che tutta quella zona fosse una sorta di grande curva inclinata verso il basso. Aveva sentito varie descrizioni contrastanti del tartaro. Era una fossa senza fondo, era una fortezza circondata da muri d'ottone. Non era altro che un baratro senza fine. Una leggenda lo descriveva come l'esatto opposto del cielo, un'enorme cupola capovolta di roccia. Questa sembrava la versione più veritiera. Tuttavia, se il tartaro era una cupola, Annabeth intuiva che era come il cielo, privo di un vero fondo e fatto di molteplici strati, ciascuno più buio e meno ospitale del precedente. E neanche quello corrispondeva a tutta l'orribile verità. Superarono una vescica del terreno, una bolla vibrante e traslucida grande quanto un'automobile. Al suo interno, rannicchiato su se stesso e ancora non del tutto formato. C'era il corpo di un drago. Bob lo infilzò con la lancia senza pensarci due volte. La bolla scoppiò in un geyser di poltiglia gialla e fumante e il mostro si dissolse nel nulla. Il titano continuò a camminare. «I mostri sono i forunculi sulla pelle del tartaro», pensò Annabeth rabbrividendo. A volte avrebbe fatto volentieri a meno di un'immaginazione così vivace, perché adesso era certa di camminare sul corpo di una creatura vivente. Tutto quel paesaggio sofferto, la cupola, la fossa o comunque lo si chiamasse, era il corpo del dio tartaro, la più antica incarnazione del male. Proprio come Gea abitava la superficie della terra, il tartaro ne abitava l'avisso. Se quel dio avesse notato la loro presenza, come pulci su un cane? «Basta», si disse Annabeth, «smettila di pensare!» «Eccoci!», disse Bob. Si fermarono in cima a un crinale. Sotto di loro, in una conca riparata simile a un cratere lunare, si ergeva un anello di colonne spezzate in marmo nero intorno a un altare di pietra scura. «Il Tempio di Hermes!», spiegò Bob. Percy aggrottò la fronte. «Un Tempio di Hermes nel tartaro?». Il titano rise, divertito. «Sì, è caduto qua giù da non si sa dove, molto tempo fa. Forse dal mondo mortale. Comunque, i mostri se ne stanno alla larga, per la maggior parte». «Come facevi a sapere che era qui?», domandò Annabeth. Il sorriso di Bob si spense e gli si dipinse un'espressione vacua negli occhi. «Non me lo ricordo!». «Non importa», si affrettò a rassicurarlo Percy. Annabeth si sarebbe presa calci da sola. Prima che il titano diventasse Bob, era stato Giapeto. Come tutti i suoi fratelli, era rimasto prigioniero nel tartaro per secoli. Certo che sapeva come muoversi. Se ricordava quel Tempio, forse avrebbe cominciato a ricordare altri particolari della propria antica prigione e della vecchia vita. E non era una bella cosa. Scesero nel cratere ed entrarono nel cerchio di colonne. Annabeth si lasciò cadere su una lastra di marmo, troppo stanca per fare anche solo un passo in più. Percy invece rimase in piedi accanto a lei, protettivo, e perlustrò l'area circostante. Il fronte temporalesco, nero come l'inchiostro, era a meno di trenta metri di distanza ormai e oscurava ogni cosa innanzi a loro. Il bordo del cratere impediva la vista sulla terra desolata alle loro spalle. Erano nascosti bene, ma se i mostri fossero capitati lì per sbaglio, loro non se ne sarebbero accordi. «Hai detto che qualcuno ci inseguiva», disse Annabeth. «Chi?» Bob stava spazzando il terreno intorno all'altare, finandosi di tanto in tanto come per cercare qualcosa. «Ci stanno seguendo, sì! Sanno che siete qui! Giganti e titani! Gli sconfitti! Lo sanno!» «Gli sconfitti!» Annabeth cercò di non farsi prendere dal terrore. Quanti titani e giganti lei e Percy avevano battuto nel corso degli anni. Ogni volta era sembrata una sfida impossibile. E se tutti loro adesso erano laggiù nel tartaro e gli stavano dando la caccia attivamente...» «Allora perché ci fermiamo!» sbottò la figlia di Athena. «Dovremmo continuare a muoverci!» «Troppo!» replicò Bob. «Voi mortali avete bisogno di riposo! E questo è un buon posto! Il posto migliore nel giro di... oh, tanti, tanti chilometri! Io farò la guardia!» Annabeth lanciò un'occhiata a Percy, inviandogli un messaggio muto. «Meglio di no!» Andarsene in giro con un titano già non era il massimo. Ma dormire con un titano di guardia... non c'era bisogno di essere figli di Athena per capire che non era per niente saggio. «Tu dormi», le disse Percy. «Io farò il primo turno di guardia insieme a Bob». Il titano approvò quella proposta. «Bene! E quando ti sveglierai, ci sarà anche da mangiare!» Lo stomaco della ragazza fece le capriole alla parola mangiare. Non aveva idea di come Bob potesse procurarsi del cibo nel bel mezzo del tartaro. Forse si occupava della spesa, oltre che delle pulizie. Annabeth non voleva dormire, ma il suo corpo ebbe la meglio. Si sentiva le palpebre pesanti come piombo. «Persy, svegliami per darti il cambio! Non fare l'eroe!» «Chi? Io?» replicò Percy, con quella smorfia ironica che lei aveva imparato ad amare. Poi la baciò, con le labbra screpolate e bollenti. «Dormi!» Ad Annabeth sembrò di essere tornata al campo mezzosangue, nella casa di Hypnos. Era stremata. Si rannicchiò sulla terra dura e chiuse gli occhi.